Ma gli scatenati, ora ci avvicineremo, una vergogna unica, in effetti discutono anche sulla cosa, discutono anche sulla coreografia in atto. Giorgio che controlla, andiamo, ma andiamo a vedere da vicino cosa stanno facendo. Guardateli come si scatenano! Con ciccio seduto. Siccio è quello che sudate più, eh? Sì, infatti visto, tossisce da te. Armin sembra che è stato punto. Sì. Armin ha appena finito una dose. Guarda ciccio, guarda, guarda, mi hai ispirato, guarda. Paola, Paola, guardate Paola. È intensa. Sì. Alessandra non capisce quello che sta facendo, va a cazzo, ma nessuno sa che questo video andrà su YouTube, eh? Ma io lo sapevo. Pronto, se qualcuno vuole commentare. Oh, ma adesso non si vede, però. Ti vede più la via. Guardate, Armin è come sega e legno. Sì, infatti, sembra un corso di segheria più caldo, più caldo. Guarda, è un ballo. Sì, il tuo pubblico, guarda. Il pubblico di Armin ne sono tutti i creditori. Guardate. E ciccio mancia. Tanto ciccio mancia. Tanto ciccio mancia. Cioè, perché qui infatti ballano, no? E poi lì giù c'è la gioia, praticamente, che sta in disparte. Cioè, perché qui infatti ballano, no? Che tristezza. Cioè, veramente, altro che scuola Stefano la possibilità qua. La possibilità non ce l'hanno mai avuta. È la scuola delle mancate possibilità questa. Tra l'altro la Wisi è spenta, eh? Sì, praticamente, ormai vanno in automatico, anche senza canzoni. Bellissimo. Due. Se qualcuno vuole commentare, che lo faccia tranquillamente. Eccola, è arrivata anche lei che non voleva finire il suo YouTube. No, ma l'hai avuto per lo spazio. Brava. Ho andato a fare le sedie. Perfetto.